Allora amici ciclisti, sono Mario Andrini e eccomi qua con un prodotto eccezionale, miele di spiaggia una edizione limitata di questo miele che facciamo a Torre del Lago Puccini nel parco di Migliarino e questo miele verrà omaggiato in occasione della Gran Fondo Puccini e della Gran Fondo della Versilia nelle 24 categorie di ciclisti che parteciperanno a queste gare quindi sarà questo prodotto molto buono, un miele che può essere utilizzato nei formaggi ma mangiato anche così e ha questa particolare proprietà dell'aroma della spiaggia quindi dell'elicrisio che è sulla spiaggia che gli conferisce un aroma e un sapore particolarissimo quindi 12 categorie per il percorso lungo, 12 categorie per il percorso medio sia della Gran Fondo Puccini-Città di Lucca che della Gran Fondo della Versilia e ci sarà lui a premiare ci sarò io grazie ragazzi e buona corsa a tutti